Trentesima puntata di Corner dal Pantheon di Corso Matteotti a Vercelli. La prova esce sconfitta dal San Nicola di Bari per sei reti a due grandi occasioni mancate nel primo tempo però che va sotto per tre reti a zero che illude i tifosi gli innamorati di pro fino al tre a due e poi quattro cinque sei sul finale. Dunque una pro che ha giocato in parte nel primo tempo una eccellente gara ma che poi si è progressivamente sciolta soprattutto per alcuni errori dei singoli. Siamo con i nostri consueti opinionisti partiamo da Massimo Bignardi. Sì diventa difficile fare un commento oggi perché è stata una partita molto strana. Per tutto il primo tempo una grande pro Vercelli che però non ha sfruttato le occasioni ha commesso errori individuali in difesa che ci sono costati due gol. Nel momento in cui sembrava la partita riaperta forse aveva un po' finito la benzina sul tre a due per il Bari. Quando c'era il momento di quel gol inventato da Rosina ci ha un po' tagliato le gambe. Carlo Monzeglio allora le due grandi occasioni eh sui piedi di eh Malonga che ha inventato un pallonetto uscito di pochissimo sopra la traversa e il diagonale di Jack che avrebbe potuto sbloccare il risultato a favore della squadra di Foscarini. Potremmo parlare dunque di gol mangiati di occasioni sprecate oppure no? Ma io all'inizio quando ho parlato all'inizio della partita dopo quei due gol che ci siamo mangiati e ho detto la vedo brutta cioè ho avuto un brutto sentimento e infatti un brutto presentimento infatti si è avverato quando non riesci a concretizzare delle delle azioni che sono bellissime e che meritano la segnatura di andare in gol è chiaro che poi c'è la legge del contrapasso e qualcosa succede e purtroppo anche grazie a qualche svarione della difesa e quello che qui bisogna sottolinearlo di nuovo per l'ennesima volta difesa con qualche svarione e siamo riusciti a prenderci sei gol. Va bene sabato ne abbiamo fatti cinque e oggi ne abbiamo presi sei. Abbiamo visto dunque otto gol il microfono adesso a Paolo Gagnone. Sì una partita strana decisa dagli episodi io secondo me non me la sento di condannare la squadra abbiamo giocato molto bene la prima mezz'ora potevamo andare in vantaggio con due gol non ci siamo riusciti loro alla prima occasione per un errore nostro di difesa in difesa ci hanno castigato e da lì è cambiata la partita siamo andati sotto 3 a 0 il siamo riusciti a rientrare in partita il risultato alla fine sei a due che chi non avesse visto la partita dice un risultato tennistico secondo me è bugiardo perché non c'è stata questa differenza in campo purtroppo gli episodi ci hanno penalizzato loro nelle individualità sono stati bravi Rosina ha fatto un euro goal bellissimo assolutamente che ci ha tagliato le gambe in rimonta il gol del 4-2 dagli ultimi dieci minuti il 5-6-2 in influente non cambia niente la squadra non c'era più in campo è crollata. Secondo me ripeto abbiamo preso sei gol strano dirlo è la più bella pro Vercelli che ho visto in trasferta se giochiamo sempre così abbiamo possibilità di salvarci. Esageru Manen si direbbe in Vercellese io lo dico anche prima con l'amico Paolo ho avuto un scambio uno scambio simpatico di opinioni non sono assolutamente d'accordo sul fatto che sia stata la migliore prestazione della pro in trasferta neppure sotto l'aspetto del gioco il problema se vogliamo e ribalto la questione a Massimo è che Mammarella sulla fascia si sfianca con gran lavoro sopra e sotto su e giù e dalla fine non può arrivare a coprire per questo nessuna giustificazione per esempio per gli errori di un Elia Legati che oggi ha compromesso per buona parte le belle cose fatte dagli avanti delle bianche casacche però qualcosina forse c'è da rivedere Massimo sì perché restiamo contenti delle belle trame offensive del primo tempo ma molto preoccupati per gli errori tecnici individuali per il fatto che la squadra regge 60 65 minuti e i crolli psicologici di questa squadra non è la prima volta quindi alle difficoltà c'è veramente un crollo verticale questo non può che preoccuparci allora è vero che nella testa dei tifosi della pro c'era già la sconfitta di Bari i giocatori però lo ribadiamo hanno dimostrato nella prima parte del primo tempo di poter reggere molto bene contro un Bari in crisi contestato dai propri tifosi un Bari che aveva le gambe che tremavano e allora toccava alla pro sbloccare il risultato proprio favore e poi gestire la partita in un altro modo ed invece così non è stato devo dire che veramente le belle cose che si vedono in campo per opera della pro vengono vanificate da gravi errori dei singoli parlare di una bella pro dopo aver subito sei gol è vero che nella parte finale di gara la squadra si è totalmente sfilacciata e ha lasciato lo spazio alle individualità baresi ma ancora una volta abbiamo rianimato una formazione che era fortemente in crisi e salvato la panchina di un altro allenatore in questo caso il bravo campone carlo hai detto tutto tu è giusto noi siamo capaci siamo un centro di rianimazione per squadre in crisi l'abbiamo fatto con il novara all'andata se ti ricordi dove barone dove essere barone dove essere licenziato e invece è stato licenziato poi scazzola e l'abbiamo fatto con tantissime altre squadre e oggi l'abbiamo fatto di nuovo con bari e speriamo che però questo non non vada a inficiare una nostra corsa alla salvezza ecco paolo paolo gagnone adesso a te chiedo appunto risultati odierni classifica ed eventuale contraccolpo psicologico di questa cestina subita al san nicola di bari secondo me i risultati sono abbastanza a nostro favore a parte il lanciano che ha vinto con la salernitana contraccolpo psicologico speriamo che non ci sia l'hanno dimostrato i giocatori dopo la sconfitta in casa con l'entella che nelle tre partite difficili successive abbiamo fatto cinque punti e che nessuno l'avrebbe detto e sta sconfitta bari a parte il risultato tennistico secondo me un contraccolpo psicologico non ci sarà e lo dimostrerà già in casa con l'ascoli la nota dolente secondo me peggiore di oggi a parte gli errori individuali in difesa che ci stanno e tutto e la totale assenza centrocampo di un regista leader che dovrebbe essere rossi che ripeto tutte le volte a mio avviso non ancora dimostrato niente 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 oggi peggiore in campo rossi e non ancora dimostrato niente e lui che dovrebbe essere l'uomo della differenza ecco noi continuiamo a mangiare così come la pro si è mangiato alcuni gol nel primo tempo ma guardiamo avanti perché anche manuello davanti al portiere ha mancato un gol che poteva riaprire prima la partita e darci un po più di speranza bravo bravo anche micai certo che ha parato molto bene guardiamo avanti e guardiamo alla prossima partita casalinga al robiano piola contro l'ascoli diretta avversaria nella lotta per la salvezza che squadra vi aspettereste come formazione in campo e che atteggiamento ripartiamo da massimo ma io mi aspetto alla formazione di oggi con castiglia al posto di rossi e un solo obiettivo vincere non c'è un'alternativa non si potrà dire abbiamo giocato bene sabato o si vince o è dura carlo jack beretta scoperto forse troppo tardi da foscarini purtroppo sì purtroppo sì diciamo che sarà stata la dirigenza sarà stato lo stesso foscarini che hanno voluto insistere per molti mesi su ettore marchi che io ringrazio e stimo perché è un grande è stato un grande giocatore l'anno scorso però non si può ignorare beretta in nella situazione in qui e oggi e per cui doveva essere utilizzato già tempo in tempi meno meno sospetti paolo dunque ribalto a te la domanda su quale proti aspetti sabato pomeriggio a vercelli a robiano piola contro lascoli e se prevedi dei cambiamenti nell'undici iniziale cambiamenti spero centrocampo che dire un po di riposo a rossi poi con castiglia che subentra cambio modulo uguale mi aspetto una pro vercelli grintosa come contro pescara come le ultime come le ultime tre partite anche a vicenza anche una pro grintosa che c'è che anche se non è proprio che ci porta a casa un bel risultato positivo che ne abbiamo bisogno in casa non dobbiamo più fallire i tre punti da cui a fine campionato se vogliamo salvarsi dobbiamo portarli a casa di rifo di raffo grazie concludiamo così dunque questa trentesima puntata di corner forza pro porta a prova porta a prova porta a prova porta a prova